Ecco il giocatore Paolo Azzini, benvenuto. Ciao Paolo, ben arrivato. Prima sensazione, è stata una trattativa a Lampo, come mai hai scelto Cagliari? Guarda, prima sensazione, questo caldo che c'è qua, bellissimo, sono contento di arrivare, non vedo l'ora già di andare al campo, niente, sono molto felice di essere qua. Trovi un allenatore importante, esperto come Ranieri, vi siete già sentiti? Sì, sì, siamo sentiti, però è meglio parlare di persone, quindi adesso al campo avremo il modo di parlarci e di conoscerlo meglio. Sono già pronto per sabato, eventualmente, fisicamente? Spero di sì, mi sono allenato, quindi mi sono fermato e adesso arrivo al campo per dare continuità. Si diceva che ti volessero in Serie A, è un discorso rimandato? Guarda, parliamoci dopo che avremo il modo di chiarire tutte le cose, vi ringrazio.